Musica 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 Eccoci qua, in questi giorni non è che sono riuscito a giocare più di tanto Sono arrivato a grado 10, ho sbloccato un paio d'armi tra di cui il P90 Che è una mitraglietta veramente molto forte Oggi andremo ad usare solo questa Che così vedrete com'è, è veramente forte Te pare che aveva già incominciato E vabbè E vabbè Granata partita Ricarico Che cazzo è che lo sento Nooo Più in basso ma cazzo Che cazzo vai Dai Dai, vai dentro Nemico, edificio delle sostanze toti Non lo vedono Non lo vedono Dai, dai Nemici nell'area Ricarico No, eccolo Eh, sentivo uno dentro Ristorante Ecco, anche lì Ma che cazzo non ho preso il coltellino Figa Figa UAB Sì No Vecchio, vecchio 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 Inizio 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 Ma vai Figa E vabbè Finita qua Incominciamo bene Eh, verso la fine ho fatto una merda Impressionante Inizio Andiamo Deathmatch a squadra Controlliamo la battaglia Nemici dell'area Nemici dell'area Si sparano Si sparano Sono con te Sono con te Adesso Ah sicco Seppareva Siamo al comando Radar personale nemico allai Noi, non c'è l'uomo. all'ultimo l'ho vinta uh uh cu cu muloni anche questo video finisce qui mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa vi sembra il P90 lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video